Il 20 del mese di dicembre alle ore 10.43 nella sede comunale di piazza Vittorio Emanuele dinanzi al mezzo d'autore Vincenzo Sanzo, segretario generale del comune, si è presentato il signor Russo Rosario, nato a Trapani il 28.10.1966, presidente di via Raffaello numero 103.90.13.20, agrigente, nominato con atto sindacale numero 38 del 2012-2021, assessore comunale, il quale effettua il giuramento disciplinato dall'articolo 15,2 della legge regionale 26 agosto 92.7, successiva modifica e integrazioni, pronunciando la seguente formula. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia gli interessi della Repubblica e della Regione.